buongiorno sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fuscecchia oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate si tratta di questa bella audi q5 3000 turbo diesel dell'anno 2009 allora vi faccio vedere intanto lo stato d'uso della carrozzeria che si presenta sempre in un modo veramente eccellente queste sono naturalmente le immagini a livello di accessori cerchi lega i suoi originali sensori di parcheggio posteriori questa è la sigla come vi dicevo internamente ha il suo i suoi interni in pelle grigio eccoli qua cambio automatico quattro roto motrici climatizzatore automatico 299 mila chilometri la vettura come vi ho detto è già disponibile quindi la potete già venire a vedere a provare potete telefonare per chiedere un appuntamento almeno così per spiegarvi cosa può essere un eventuale acquisto andate sul nostro sito diretto autosani.it troverete tutte le spiegazioni più precise su questa vettura e su tutte le nostre altre proposte per quanto riguarda vetture usate o aziendali visitatelo perché è molto bello a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura